L'occupazione di Port Arthur venne vista dai giapponesi come una provocazione inaccettabile ma venne attuata dai russi col fine di avere un porto sull'oceano Pacifico sgombro dal ghiaccio tutto l'anno. 8 febbraio 1904, la flotta della marina giapponese attaccò senza preavviso la flotta russa a Port Arthur. Ebbe inizio così la guerra fra la Russia e il Giappone. L'11 marzo 1905 l'esercito giapponese entrò nella capitale della Manciuria, riuscendo ad infliggere ai russi una pesante sconfitta. Il 28 maggio, davanti all'isola di Zuzima, la flotta russa, arrivata dal mar Baltico, venne sconfitta dalla marina militare giapponese, la Russia, dopo essere stata sconfitta sia per mare che sulla terra ferma, chiese di intavolare i trattati di pace. In seguito a ciò la Russia fu costretta a cedere la metà meridionale dell'isola di Sakhalin, dovette rinunciare a Port Arthur, si dovette ritirare dalla Manciuria e riconoscere al Giappone l'influenza sulla Corea che annesse poi nel 1910. Il Giappone, che fino al 1868 si presentava come un paese feudale, nel giro di 30 anni si trasformò dal punto di vista economico, divenendo così un paese con obiettivi espansionistici e imperialistici. In seguito alla vittoria contro la Russia, il Giappone conquistò il ruolo di grande potenza, di cui approfitterà per espandersi ulteriormente in Cina e nel sud-est asiatico, fino al tragico epilogo della Seconda Guerra Mondiale. Posto sotto il controllo degli Stati Uniti fino al 1951, il paese svilupperà una delle economie più forti del mondo.